Con questa quarta registrazione abbandoniamo l'umore malinconico, per così dire che ha caratterizzato i precedenti audio, e ci accostiamo a un tema molto più leggero e se vogliamo anche divertente, ossia città eterna, la Roma di ieri negli epigrammi di Marziale. Con Marco Valerio Marziale siamo in ambito latino, in particolare nella Roma della seconda metà del primo secolo d.C., anche se questo poeta, come altri protagonisti della letteratura latina, per esempio Lucano, Seneca, Quintiliano, era di origine spagnola. Nasce a Bilbili, un piccolo centro della Spagna tarraconense, dove ancora oggi sono visibili alcuni resti dell'antico centro romano, e si trasferisce a Roma nella prima metà degli anni Sessanta, entrando proprio in stretto contatto, e anzi, giovandosi del sostegno di conterranei come appunto Seneca e Lucano. Senonché Marziale dovette rinunciare al loro sostegno quando nel 65 d.C. Seneca e Lucano furono indotti, di fatto costretti al suicidio, in quanto membri della cosiddetta congiura dei Pisoni, cioè un atto cospiratorio contro Nerone, un imperatore che aveva assunto tratti sempre più marcatamente dispotici e tirannici, e quindi Marziale rimane di fatto privo dei suoi appoggi e si apre per lui la convulsa e precaria vita del cliente, che è nell'istituzione, nell'assetto istituzionale sociale romano, in sostanza un individuo non necessariamente povero, ma certamente di precarie condizioni economiche, che comunque non può contare su rendite fisse, come possedimenti per ieri o altri proventi per vivere, e dunque per sopravvivere si lega in sostanza un patrono e in cambio di una serie di servizi, che possono essere di natura avvocatesca, nel caso di Marziale di natura letteraria o di altra natura, riceve dal patrono somme, sovvenzioni per sostentarsi. Si tratta dunque di una figura, quella di Marziale, non appunto povera, ma sempre sul punto di diventarlo, quindi una vita sempre estremamente precaria. E naturalmente questo aspetto di mutuo sostegno, di scambio, lega il patrono al cliente, si riversa anche nell'opera letteraria di Marziale, nei suoi epigrammi, ossia 15 libri per un totale di 1561 componimenti, parliamo di quasi 10.000 versi, quindi uno scrittore sicuramente prolifico, che però proprio per poter dedicarsi all'attività letteraria con tranquillità economica, indulge in molti momenti della propria poesia alla adulazione, alla celebrazione spesso anche smaccata nei confronti dei potenti di turno, e in particolare degli imperatori della sua fase. Quindi per esempio Tito, che regnò dal 79 all'81 d.C., e che gli concesse lo ius trium liberorum, cioè propriamente il diritto, il privilegio di usufruire di alcuni diritti che venivano riconosciuti ai padri di tre figli, propriamente anche se Marziale non aveva tre figli, e poi anche con Domiziano, che regnò dall'81 al 96, ebbe importanti incarichi pubblici, divenne per esempio tribuno, fu ammesso nel rango e questo, cioè quello dei cavalieri. Alla morte di Domiziano, nel settembre del 96, Marziale tentò di legarsi ai nuovi potenti, a Domiziano seguì il regno di Cociglionerva, ma vi fu un cambio dinastico, un cambio di figure, e sostanzialmente Marziale non riuscì mai a entrare nelle grazie della nuova classe dirigente romana, tanto che sul finire del primo secolo d.C., negli ultimissimi anni del secolo, fece ritorno in Spagna, con una certa nostalgia di Roma a Bilbili, e lì morì nei primi anni del secolo successivo, tra il 101 e il 104, probabilmente. Marziale è protagonista di una delle nostre registrazioni, perché offre nei suoi epigrammi una descrizione molto divertente, molto anche salace, dell'aroma del tempo, dell'aroma del suo tempo. I suoi epigrammi sono molto vari come argomento, ma noi ci concentriamo su epigrammi per lo più satirici, nei quali cioè Marziale rappresenta quasi una sorta di galleria di ritratti, di bozzetti, di personaggi tipici della Roma del suo tempo, e lo fa con l'atteggiamento tipicamente satirico che lo caratterizza. Si tratta dunque di una poesia nella quale si riflettono le vicende che lo stesso Marziale vive in prima persona, il vissuto quotidiano della Roma del tempo. Una delle sue affermazioni più celebri è che hominem, pagina nostra sapit, cioè la nostra pagina ha il sapore di uomo, intendendo con ciò che la poesia di Marziale è una poesia non basata sui soggetti mitologici e favolistici della poesia tradizionale, epico-tragica, ma è una poesia che si basa invece sulla realtà, sulla realtà del suo tempo, e che quindi contiene una serie di personaggi, episodi, vicende, che sono quelle del suo vissuto, una professione di realismo dunque, che naturalmente va però a trasfigurare in termini satirici, caricaturali, la realtà. Gli epigrammi di Marziali si segnalano proprio per questa capacità di divertire il lettore, spesso ricorrendo a un elemento di sorpresa, un elemento inatteso. Già il Lessing nel Settecento aveva individuato uno schema base nella composizione dell'epigramma di Marziale, perché si tratta di epigrammi, testi spesso molto brevi, a volte addirittura solo due versi, in cui a una prima parte descrittivo-rappresentativa, che si limita a fotografare una situazione, un personaggio in maniera estremamente neutrale, sobria, segue una seconda parte che contiene il cosiddetto aprosdocheton in greco, o inopinatum in latino, cioè un elemento inatteso, che in sostanza, in chiave ironica, spesso sarcastica, comunque arguta, contiene una riflessione sulla situazione tratteggiata in precedenza che spiazzi il lettore, lo sorprende, lo stupisce, facendolo anche ridere e divertire. In un certo senso, per Marziale vale quello che Giovanni Battista Marino avrebbe detto della propria poesia, cioè il fin della poesia è la maraviglia, maravigliare, stupire il lettore, anche rappresentando questo mondo brulicante, rumoroso, ricco di vitalità, questa Roma cinica e levantina, priva di virtù, amante dei piaceri di vizi, che è la Roma che Marziale ci rappresenta. Sempre però, mai con un atteggiamento moralistico, tipico della satira, che ha come scopo quello di castigare Mores ridendo, cioè di correggere i vizi, i costumi viziosi, suscitando il riso. In Marziale non vi è questo intento moralistico e, per così dire, pedagogico. Marziale non vuole correggere il vizio, si limita a rappresentare questo universo che è rappresentato dall'urpe del suo tempo in maniera estremamente ironica, realistica, caricaturale, senza però mai assumere il tono del censore, del moralista. lascia che sia il lettore a giudicare da sé. E la Roma che ci appare è una Roma certamente interessante, che per certi aspetti contiene anche tratti della Roma di altri tempi, un mondo appunto piuttosto crudele, quotidiano, privo di idealità, dove tutti cercano in qualche modo di tirare a campare, senza però in fondo lavorare, ma ognuno cerca di vivere alle spalle di qualcun altro, e quindi vizi come il parassichismo, la spilorceria, sono vizi che vedremo ben rappresentati nei suoi epigrammi. Partirei però da questo primo componimento sugli inconvenienti dell'urpe. Questo è il cinquantasettesimo testo del dodicesimo libro, i numeri che si vedono tra parentesi a fianco ai titoli sono appunto con l'indicazione del numero di componimento. Questo è un testo in cui Marziale descrive gli effetti collaterali della vita nell'urbe. La città era certamente una città che lo attraeva perché era la città delle sale di lettura, dei circoli di conversazione, delle biblioteche, la città dove dunque lui poteva dedicarsi all'attività poetica, alla letteratura, ma è anche una città che per certi aspetti impone una vita piuttosto pesante e dura, la vita soprattutto caotica della grande metropoli. Chiedi spesso perché io mi ritiri nel mio arido campo di Nomenito, cioè un borgo dell'antico Lazio a nord-est di Roma e al trasandato focolare della mia casa rustica. a Roma per un povero quale io sono dormire o meditare non è concesso sparso, qui Marziale si rivolge a un interlocutore che viene menzionato con il suo nome come spesso avviene nei suoi epigrammi e appunto Marziale spiega perché spesso preferisca abbandonare l'urbe e ritirarsi nel sua casa di campagna Nomenito perché Roma è una città per certi aspetti invivibile, non si riesce a dormire, non si riesce a riposare e a meditare e segue un lungo catalogo Marziale ama questi cataloghi di personaggi di oggetti un po' che anticipano la scrittura di Carlo Emilio Gadda segue un lungo catalogo di personaggi colti naturalmente con intenti caricaturali e ironici che affollano la città rumorosamente caoticamente e tolgono il sonno al povero Marziale. Al mattino i maestri di scuola mi rendono la vita insopportabile di notte il turno dei fornai per tutto il giorno non cesse il martellare degli artigiani da una parte un cambiavalute sfaccendato scuote il tavolo sudicio dalle monete di Nerone dall'altra il battitore dell'oro di Spagna batte la pietra già ridotta in pezzi con lucido mazzuolo né smetti in un sol momento di vociare la fanatica folla di Bellona la dea Bellone era una dea cui i riti erano aperti solo alle donne nella fanatica folla evidentemente costituita da gruppo di donne che si recavano rumorosamente i riti di questa dea né il naufrago ciarliero né il giudeo dalla madre ammaestrato cessa di questuare e grida per di fiato quel cisposo che vende zolfanelli qui si ha un'interessante attestazione della presenza di comunità ebraiche nella Roma della seconda metà del primo secolo dopo Cristo tra l'altro con un accento come è con suetudine già negli autori antichi non positivo i giudei sono qui visti appunto come questuanti tu sparsi ignori queste noie ne puoi saperle dedito ai piaceri nelle vaste tenute di petiglia qui si ha una contrapposizione tra la città caotica rumorosa dove è impossibile prendere sonno e la campagna dove invece ci si può dedicare agli ozzi alla tranquillità secondo una contrapposizione topica tra città e campagna che si ha per esempio già in Orazio ma qui la contrapposizione anche tra un individuo come marziale che ha bisogno di da fare quotidiano per sostentarsi e invece il possidente terriero benestante viaggiate condizioni economiche che può tranquillamente permettersi di vivere in campagna a te una casa comoda dall'alto fa contemplare i monti e a Roma possiedi un gran podere con un assiduo vignaiolo romano la tua casa ha un ingresso così grande che permette il passaggio di una carrozza tu prendi sonno in un intimo recesso indisturbato da lingue cialiere e hai la luce del giorno quando lavori quindi sparso a differenza di marziale ha una vita tranquilla può permettersi economicamente permettersi di vivere con tranquillità marziale invece che alla ricerca continuamente di sostentamento per poter tirare fine mese è costretto a immergersi in questa grande città caotica rumorosa anche se quando può si ritira nel proprio podere di campagna e in questa città vediamo quali sono i personaggi che si avvicendano tra questi per esempio vi sono personaggi poco raccomandabili qui abbiamo brevissimi epigrammi di due versi ciascuno in cui marziale si diverte a tratteggiare dei ritratti naturalmente caricaturali ironici anzi spesso sarcastici di personaggi tipo che popolano la Roma del tempo la prima è questa Paola eri il tuo amante e questo Paola potevi negarlo ora ecco che è tuo marito forse che Paola puoi negare anche questo qui naturalmente l'accusa è all'infedeltà di questa donna una donna dedita agli adulteri una matrona infedele e viziosa che può negare di avere un amante ma che poi addirittura sposa il proprio amante e il suo amante diventa marito e non può più negarlo e poi vi è un altro epigramma sempre con protagonista questa Paola interessante perché tematizza una situazione ricorrente nella poesia di Marziale Paola vuole sposarmi ma io non voglio sposarla perché è vecchia la sposerei volentieri se fosse più vecchia qui Marziale si fa in sostanza diviene il tipo del cacciatore di eredità molti sono i personaggi descritti proprio come cacciatori di testamenti cioè uomini che pur di ottenere dei soldi non si pericano di sposare anche donne molto più anziane ma naturalmente il problema è che tanto più sono anziane tanto più è vicina per l'uomo la possibilità di ottenere l'eredità e dunque se fosse molto vecchia il personaggio parlante marziale dice che sposerebbe volentieri Paola perché naturalmente la dipartita di questa Paola sarebbe vicina e lui potrebbe goderne i beni ma siccome non è abbastanza vecchia non la sposa perché oltre al danno la beffa sposerebbe una donna molto più anziana di lui ma oltre a questo non avrebbe neanche l'eredità perché non è abbastanza vecchia e questa è una situazione che ritornerà come vedremo cioè questi matrimoni dettati da tutto fuorché dall'amore ma piuttosto da interessi molto materiali molto concreti come tipico di questa società dove appunto tutto è legato al denaro al materialismo non si hanno sostanzialmente valori ideali spirituali e poi vi è questo lino mi chiedi o lino che cosa mi rende il mio poderetto nomentano ecco cosa mi rende non vedo la tua faccia caro lino quindi una dichiarazione abbastanza esplicita questo lino doveva essere un personaggio non troppo simpatico e quindi il solo fatto di averlo lontano dalla vista giustificava l'essere lontano da Roma e avere questo piccolo podere di campagna e un vizio di lino uno dei tratti che lo rendevano insopportabile era la sua inaffidabilità chi preferisce donare a lino solo la metà piuttosto che l'intera somma certo preferisce perdere la metà si trattava dunque di un personaggio che evidentemente non assolveva i propri debiti tanto che chi gli prestava soldi non era in dubbio se prestaglieli pochi o molti il dubbio era quanto avrebbe perso perché comunque già sapeva in partenza che lino non li avrebbe restituti un altro personaggio interessante altri personaggi interessanti sono questi medici non proprio integerrimi medici la cui attività non è in sostanza animata dalla volontà di salvare e curare i pazienti il primo è questo Diavolo poco fa Diavolo era un medico ora è un Becchino ma ciò che fa da Becchino lo aveva fatto anche da medico è un personaggio evidentemente che come Becchino forse anche adatto ma che non lo era da medico visto che da medico faceva quello che già che ormai fa da Becchino in sostanza quindi un medico non proprio raccomandabile e poi abbiamo questo medico Erode che aveva rubato la coppa a un paziente scoperto disse sciocco perché vuoi bere quindi un medico ladro addirittura o cleptomane che però è assolutamente scaltro e astuto e per cui quando il paziente si accorge che sta rubandogli una coppa lui è in grado di girare la frittata per così dire e di fingere di impossessarsi della coppa per il bene del paziente per evitare che il malato beva vino dunque personaggi assolutamente corrotti poco affidabili poco raccomandabili vizi diffusi in questo mondo assolutamente concreto e materialista indaffarato nell'itali carte dell'arrangiarsi privo di idealità e di tensioni morali sono la spirolceria e il parassitismo della spirolceria è esemplare questo fabullo ieri ai commensali hai donato un buon profumo lo ammetto ma sulla mensa non hai poi offerto nulla è ridicolo essere profumati e non mangiare chi non mangia viene profumato o fabullo a me in realtà sembra un morto imbalsamato questo fabullo uno spilorcio che si sui commensali offre profumo ma non dà poi da mangiare quindi la situazione di questi commensali sembra quella dei morti che vengono umpi con oli profumati quando devono essere sepolti ma di fatto non mangiano un altro spilorcio è questo pontico noi beviamo in un bicchier di vetro tu pontico in uno di porcellana perché affinché un calice trasparente non riveli che si tratta di due vini diversi questo è un altro spilorcio che beve evidentemente un vino di buona qualità ma offre ai suoi commensali un vino scadente per evitare che questi se ne accorgano beve in una coppa non trasparente in modo tale che non si veda la differenza di vino e poi abbiamo i parassiti il parassitismo che peraltro è un vizio diffuso nella Roma dell'epoca anche per le caratteristiche sociali giuridiche della comunità cioè il fatto che appunto vi sia una larga sacca di popolazione che per sopravvivere deve affidarsi a dei patroni al sostegno di questi padroni in cambio di una serie di servizi rende inevitabile la diffusione di un atteggiamento parassitario per cui appunto qualcuno deve campare alle spalle di qualcun altro come questo filone che giura di non aver mai cenato a casa ed è così se nessuno lo invita lui non cena ecco che appunto risparmia sui propri spiccioli perché naturalmente preferisce piuttosto che spendere di tasca propria per la spesa digiunare se nessuno lo invita e poi vi sono naturalmente altri personaggi poco affidabili come avevamo visto in precedenza Lino che non restituiva i prestiti abbiamo questo basso che ha comprato per 10.6 terzi un mantello di porpora tiria di splendido colore la porpora di tiro cioè di una delle città fenice era un tessuto molto pregiato molto costoso sembrerebbe che abbia fatto un buon affare ma l'ha comprato così a buon mercato mi chiederai certo dal momento che non lo pagherà ecco qual è il suo affare non tanto il fatto che abbia speso 10.6 terzi che in fondo non è anche poco ma il fatto che non pagherà questi soldi allora ecco che anche una spesa ingente se non viene poi saldata è un buon affare e poi naturalmente vi sono i raggiri le truffe gli inganni il primo caso che qui viene riportato è il classico esempio di truffa all'assicurazione per così dire abbiamo questo ottongiliano avevi comprato la casa ottongiliano a 200.000 sesterzi ora che un incidente frequente a Roma l'ha distrutta è stato raccolto per te un milione mi chiedo non potrebbe sembrare che tu stesso ottongiliano abbia piccato il fuoco alla tua casa questo è il classico caso piuttosto sospetto no ma c'è questo incendio tra l'altro ci viene detto da Marziale che è frequente a Roma quindi si trattava evidentemente di truffe frequenti beh questa presunta vittima viene da una colletta più di quanto aveva versato per comprare la casa e qui i sospetti che l'incidente sia doloso sono molto legittimi vi è poi il formalismo di una società in cui i titoli con cui ci si saluta e ci si rivolge agli altri sono titoli puramente formali privi di reale stima di reale considerazione per il prossimo oppure etichette alle quali si ricorre per semplice formalismo tanto che Marziale dice Cinna quando ti chiamo signore dominus non inorgoglirti spesso io rispondo così anche al saluto del tuo seno quindi titoli che sono privi di qualsiasi valore morale semplicemente pure etichette vuote etichette che non rivelano nulla della considerazione effettiva che gli uomini hanno l'uno dell'altro ma sono semplicemente vi si fa semplicemente ricorso per dovere e poi naturalmente interessi pelosi proprio in relazione a questa istituzione della clientela la turba togata dei clienti quando parli continua ad applaudirti non tu Pomponio ma la tua cena è molto eloquente gli altri clientes che per sopravvivere devono compiacere il loro patrono il quale forse si illude che essi apprezzino la sua eloquenza in realtà essi apprezzano l'eloquenza per così dire della sua cena il fatto che Pomponio offra loro la cena e poi vi sono i classici casi di perditempo sfaccendati come questo Lauro mentre hai studiato ora per fare l'avvocato ora l'insegnante e ancora non vedi chiaro che cosa tu vuoi essere o Lauro sono già passati gli anni di Peleo il padre di Achille di Priamo re di Troia e di Nestore cioè personaggi proverbiali per la loro anzianità personaggi già omerici compaiono nell'Iliade insomma questo è il classico indeciso che non sa cosa fare della vita il problema che nel frattempo la vita sta passando sarebbe già tempo se tu volessi andare in pensione comincia se hai talento e volontà nel corso dell'anno sono morti già tre professori se invece a fare l'insegnante non ti va ecco i fori fervono di lì il foro naturalmente è la piazza dove si consumavano i processi rompi gli indugi forza fino a quando ti aspetteremo mentre esiti su che cosa fare già potresti non essere nulla quindi il classico sfaccendato che passa la vita nella perenne indecisione di che cosa fare a quale professione dedicarsi però nel frattempo è già arrivato all'età da pensione l'età avanza e rischia insomma di fare il mondo prima di aver deciso quale ruolo avere nel mondo e poi altri esempi di amore coniugale naturalmente il titolo è volutamente ironico e antifrastico in realtà si tratta di matrimoni in cui l'amore ha un ruolo assolutamente nullo di nulla vuole sposare ma non nulla lo desidera ardentemente si dà un grande affare prega la donna le invia regali e dunque tanto bella tutt'altro non c'è nulla di più repellente e che cosa dunque cerca in lei tossisce questo è il caso che avevamo visto in precedenza con Paola questa marronilla non è assolutamente bella e perché il gemello vuole tanto sposarla semplicemente perché ha una salute precaria tossisce e quindi questa salute precaria può far valenare alla mente di gemello la possibilità che ben presto marronilla socconverà questa malattia e lascerà appunto a lui in eredità tutti i soldi un altro esempio di questi matrimoni di interesse è quello di questo personaggio Licoride o Fabiano ha seppellito a una a una tutte le sue amiche che diventi amica di mia moglie qui il desiderio da parte del poeta è espresso in maniera abbastanza esplicita e diretta e lascia intendere appunto che nella finzione naturalmente non sappiamo se davvero Marziale fosse sposato e volesse liberarsi dalla moglie naturalmente si trattava di battute però battute che fotografano una realtà abbastanza diffusa quella appunto di matrimoni di interesse non d'amore matrimoni in cui sostanzialmente quello a cui si aspirava era la dote della famiglia di provenienza della moglie concludiamo questa carrellata con le rivalità letterarie anche nella Roma dell'epoca la società letteraria dei poeti è caratterizzata da piccole grandi invidie gelosie odi ostilità rancori per esempio questo anonimo bersaglio polemico contro cui Marziale si scaglia tu che fai delle smorfie o velenoso e volentieri non leggi questi versi possa di tutti essere invidioso ma nessuno mai di te una sorta di maledizione nei confronti di questo bersaglio polemico e poi abbiamo l'elio tu l'elio non pubblichi i tuoi versi ma critichi i miei ora o smetti di criticare i miei o pubblica i tuoi versi questo è il classico criticone sempre pronto a denigrare gli altri che però non ha mai dato prova delle proprie potenzialità e poi abbiamo infine il laudato temporis acti cioè il classico critico che loda solo le opere del passato gli autori del passato al che Marziale risponde tu Vacerra ammiri solo gli antichi poeti e non l'odis non i morti ti chiedo perdono Vacerra non va la pena morire per piacerti qui Marziale è posto di fronte a un vivio cioè quello di morire per ottenere finalmente l'apprezzamento di questo critico Vacerra o quello di vivere senza proprio piacere preferisce questa seconda possibilità bene con questo epigramma concludiamo questa rassegna spero di aver dato qualche spunto naturalmente molto limitato molto rapido di questo universo che doveva essere rappresentato dalla Roma della seconda metà del primo secolo dopo Cristo che Marziale coglie in questa poesia estremamente salace estremamente sapida con battute di spirito ironia spesso sarcasmo e che restituisce in termini molto divertenti e anche divertiti questo universo dell'urbe dell'epoca è